Siamo ormai diventati un centro di riferimento internazionale, un centro di training per la tecnica mini-invasiva con l'accesso infrapubblico. Tantissimi medici da ogni parte d'Europa arriva a Roma per lavarsi con noi al tavolo operatorio per vedere tutti i segreti di questa tecnica fantastica che permette di impiantare il device protesico in appena 15 minuti. Siamo in grado anche di offrire, oltre all'approccio infrapubblico, anche la nostra esperienza sull'accesso penoscrotale. Questo avvantaggio anche dei nostri pazienti che arrivando nel nostro centro di alto volume di implantologia protesica peniena hanno la possibilità di risolvere il loro problema, sia che si tratti di un intervento semplice, quindi un primo intervento, sia che si tratti di un reintervento, un espianto di protesi, oppure un caso complesso di implantologia protesica peniena. Grazie! 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 Grazie!